No, 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 ok, mi ero piegato su due ruote, non so perché, ho rischiato di ribaltarmi a caso. Bella a tutti compagnia, bentornati con un nuovo video qua su Battlefield V su PlayStation 4. Oggi ragazzi vi porto un bellissimo gameplay giocato nella modalità corsa nella mappa acciaio fuso. Ci tengo a ringraziare Rudy, Vale e Dani che mi hanno aiutato e difeso per realizzare questo bellissimo gameplay. Mi raccomando fatemi sapere se il video vi è piaciuto supportandolo con un bel mi piace ed un commento dicendomi se anche a voi ha fatto piacere il ritorno della modalità corsa all'interno di questo capitolo. E passate dal mio profilo di Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Detto questo vi lascio al gameplay. Ok, occhio, c'è un cecchino là. Lo assalto. Lo vedo. Headshot! Vabbè, ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Un cecchino che viene headshotato da un carro. Se permettete, 200 IQ qua. Come si chiama? Quello voleva. Oh, oh. Va, guarda, c'è quello lato. Fatto, 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 fatto. C'è uno con le MG nell'angolino. Fatto, credo. Fatto. Sto continuando a sparare e fare danni io, eh. Andate a plantare prima, ragazzi. Guarda, lo so... Un altro headshot! Vabbè, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Sto trattenendo le madonne, proprio... Me ne sto ritirando in gola. Che amore, sai che sto registrando e non vuoi bestemmiare, tesava. Però non so se la faccio ancora più o molto. Te lo dico. Ragazzi, chiudete subito la partita. Ok, abbiamo piazzato pure A. Preso. Ok, dai. Primo settore abbiamo già preso. Vado a ottimino a prendere munizioni e pusha. Ok. Cannonata. Come non è morto? Ah, ecco. Non lo so io. Allora, chiedo giù con la casa. Eh, grazie. L'hai detto mentre stavo sparando a uno. Nella casa, sotto, sotto. Preso. Vabbè, 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 piazzate, piazzate. Ragazzi, è libera... No, c'è un bollis. Ah, ce l'avete di lato, ragazzi. Ce l'avete di fianco. Ce l'avete lì di fianco. Vale, occhio di fianco ce l'avete. Nei ci spugli. Eh, ho capito, ma ho il 3% di... E non ho più munizioni. Sì, sì, no, no. Adesso vi aiuto io. Oddio, quello sul tetto. Sopr'aspetto, sovr'aspetto. Vabbè, hai fatto crollare, ho ucciso. Grazie. Prego. Preso al volo. Guarda quello disteso. Visto, preso. Forse stanno tentando di venire dietro. Attenti. Oh, c'è uno sì che sta facendo il giro. Aia. Stanno venendo, stanno venendo. Attenti. Sì, 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 da dietro, da dietro. Ok, mi rifornisco un attimo. Guarda lì. Quale, scusa? Ecco. Ripingamolo. Quello che è appena scomparso. Si chiama pure Magic. Tada! Preso. Era dietro la bomba di A. Allora, aspetta un attimino che mi metto in posizione e poi pushati A. Sono sopra, sopra il tetto. Sì, di quell'altra casa però. L'ho visto. Sì, sì, sì. Ho fatto crollare. Vai, vai, push, 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 push che sto liberando tutto. Ok. Sto riazzando male. Il mico colpito. Spiacciato. Abbattuti. Mi si è frizzato il gioco. Oddio, quadra kill! Wow! Ho fatto quadra kill facendo un frizz assurdo perché l'ho fatto crollare la casa. Stanno ancora facendo il giro e cercando di uccidermi. Ragazzi, da destra, dal fiume. Eccolo, eccolo, eccolo. Lo vedo sulla minimappa. Ce l'ho qua sulla destra. Sì, sì, qua sulla destra. Preso. Ragazzi, ragazzi. Occhio dentro a sta casa qua. Ci hanno rientro. Preso. Mi stanno un attimino abbattendo ma sono safe. Tranquilli. Cercano di uccidermi dal lato, dal lato. Preso. Da dietro stai, da dietro, da dietro. Visti, visti, visti. Ti vogliono venire a fare. Si stanno venendo, stanno venendo. Sì, sì. Presi due. È una stazione di riferimento, stronzo. Cioè, dispettosi proprio, eh. Parla quello col boys e basta. Nella casa? Anche. Sì, ragazzi. Intanto chi è che si è appena messo dietro di loro? Sconsi. Bad è nell'angolo, lì. Anzitutto a me non mi chiami Bad, mi chiami Stevano. Maleducato. Zero ticket, ragazzi. Ci dobbiamo buttare. Qua dobbiamo difendere, assolutamente. Bravissimi. Cos'è questo... di Goduria che... Ragazzi, un altro headshot a un boys. Cioè, ma che cazzo sono diventato io col carro, scusatemi. Mi chiedono 36-0. Il Lililino. Il Lililino. Ciao. Arrivo. Ah, no, 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 no. Cos'è? Ok. Cosa vuoi fare, Spera? Mi ero piegato su due ruote, non so perché. Ho rischiato di ribaltarmi a caso. E so stato per mezz'ora fermo su due ruote. Non riuscivo a inclinarmi. Tu sei ribaltare una macchina, mettere una macchina su due ruote? Pussi, io ho un carro intero. Guarda quel... Un altro headshot col carro. Vabbè, ragazzi. Cioè, basta. C'è un boss che sta davanti. Dove? L'ha già ucciso un boss? Può essere quello? No, c'è un altro. Sta sparando dei colpi giganteschi. Di così. Ah, di là? Ok. Sì, lì così. Ah, visto, visto. Ah, no, c'è un carro. È un carro quello. Stato morì. Devo ritrocedere. Mi hanno quasi monshotato, ragazzi. Guarda lì lì in fondo a bordo mappa. Schifo lo pezzo. Vado a prendere la... Preso! Aspetta, aspetta, aspetta. Hanno messo le linee, aspetta. Non mi frega niente. Il carro! Lasciate stare i miei compagni di squadra, maledetti. Io li f***o col Gauer, madonna. Aspetta, Rudy, Rudy, vieni a rimanarlo. Vieni a rimanarlo, Rudy. Mi metto gli davanti. Sul murettino. Lili, Lili. Lili, il carro. Preso! Carro, carro, carro. Vabbè, ma il carro è in strada. Lascialo stare, chi se ne frega. Finché il carro è in strada a me non mi interessa perché tanto a me non mi vede. Io, raga, sto anche finendo i colpi. Devo rifornirmi, devo buttarmi qua in mezzo. È rischioso ma devo farlo. Nell'angolo della casa. Eh, c'è anche il carro. È arrivato anche il carro. Eh, porca boia. C'era un tizio che si stava mettendo le mine dietro. Eh, me l'ha messe. Siamo in due a riparare. Sì, sì, ma tanto... Occhio, occhio, sta disinnescando. Preso, preso. Quello che disinnesca ha preso. Sono sbagliati forse per terra. Ma come? Bastardo, era glitchato, non si vedeva. E basta, cazzo, hai carmato a spararmi. Ero a tre palle, a una certa. Necchia col boys. Sta mettendo le mine, le ha messe. Fermati. Preso, 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 preso. Non ti preoccupare. C'è il boys, raga. Preso. È là dietro. E il carro a me mi sta rompendo il palle. Lo stanno riparando anche a lui. Aia! Che cazzo è stato? Yes! Abbiamo preso settore intanto. Grandi, ragazzi. Io l'ho lanciato al bombardamento. Ho fatto un casino di punti. È buono, buono, buono. Cioè, vuol dire che questi qua pensavano più a me che a difendere l'obiettivo. Grandi. Aspetta. Sta entrando nella partita. È che non t'ho visto che eri sul pack, scusa. Allora, quei cecchini lì adesso fanno una brutta fine. Arrivederci. Uno. In acqua. In acqua che nuoto. Preso. Perché, ragazzi, la parte più difficile è attraversare... Sì, volevi usare il pack. Dicevo, la parte più difficile per me adesso è attraversare il ponte. Aspetta che ti lo giro a casa. Mi stanno sparando da di fronte. È lì dentro la casa. Mi stanno sparando da... Escono e sparano con i missili e rientrano. Ma infatti sai cosa ti dico io? Fammi passare che giro... Aia, mi hanno fatto esplodere a me col piatto invece che te. Beh, scusa. Ti ho detto di proteggermi, no? Lo stai facendo... Eh, devo difendere. Infatti ti ho difeso, visto? Lo stai facendo nel modo giusto. Oh, sono sulla casa. Come sono sulla casa? Eh, là, là. Pensavo te col carro che è riuscito da casa. Eh, sì, poi. Cosa sono Spider-Man. Qua è pieno. Dietro quest'albero erano abbassati. Double kill? Sì, sì, presi, presi. Double kill quelli. Il problema è che adesso sono nel finile loro. Io non posso avvicinarmi più di tanto. Ma questo? Disteso sotto il camion? No, da dietro. Borco demonio. Era qua nel fiume. Preso. Oh, cazzo. Di chi è? È loro, è loro. Occhio. Vabbè, mi hanno appena ucciso. No, no, è nostro. Ma perché arriva da loro il respawn, scusa? Non l'ho capita. Sarà uno, un traditore. Eh, hanno sbagliato. Ragazzi, hanno chiesto un bombardamento in V1. Eh, ma l'avete usato contro i nostri? Ops. Non volevo. No, ma come l'ha fatto a vedermi? Eh, è sdraiato per terra. Dentro un buco. Sì, è qua, qua, qua. Dentro un camion, guarda, la magic monster. La volete smettere, però, di dare le smoke sulla bandiera, verca miseria? Yes, obiettivo distrutto e si vince. Partita Flawless, 65-0, signori. Come 65-0? Che chissà che fai? 65-0? Eravamo più meccanici noi, non quelli della Ferrari. Però, infatti, no, però devo ringraziare l'aiuto che mi ha dato Rudy, riparandomi, e anche due tizi della squadra, che adesso non so i nomi, però, erano nostri compagni e mi hanno riparato un bordello di volte. Io che ti ho difeso con il corpo, scusa, ho capito, ho dato la mia vita. Sì, anche te, però. Ce l'avete presente la scena quando stando per sparare il presidente si bucati con a guardare il corpo? No! era lì lì ho dato la mia vita Grazie a tutti